Il terzo tutorial legato all'installazione, configurazione e gestione del tema PAS 2013 Beta si riferisce invece alla realizzazione dei menu laterali, quelli che nel sito PAS 2013 appaiono qua sulla colonna di sinistra, vedete, comunicazione, albo di istituto, la scuola o altro. Che cosa faccio per il momento? Faccio due menu soli, comunicazione e la scuola, gli altri vengono fatti tutti nello stesso modo. Bene, allora, menu comunicazione cosa contiene? Contiene, scusate, torno qua per far vedere bene, le circolari, che sono anch'esse delle pagine con le categorie filtrate, Cioè, tutti gli articoli saranno che sono firmati dal dirigente e hanno un numero di protocollo e le news, ok? Che invece non richiedono questo passaggio. Bene, adesso, qui ci sono gli ultimi tre articoli dei mesi precedenti, perché nel mese corrente non ci sono. Torniamo qua, e allora che cosa facciamo? Creiamo ancora nuova pagina, che chiamiamo, ah no, scusate, circolari, però prima, dimenticavo, prima vanno create le categorie, perché sono un po' come docenti, studenti, eccetera, eccetera, delle pagine con gli articoli filtrati, secondo la categoria di appartenenza. Quindi, dimenticavo, nelle pagine anche per categorie, che è la prima cosa, creare la categoria. Una volta creata, basta, no? Cioè, la categoria non si torna più, però la prima volta va messa. Quindi creiamo la categoria circolari, aggiungi nuova categoria e creiamo anche la categoria news. Qualcuno, se ha seguito il passaggio precedente di tutorial 2, si ricorderà cosa deve fare adesso. deve creare la nuova pagina circolari, che sarà una pagina speciale, una pagina associata alla categoria circolari pubblica. In modo analogo, creiamo la pagina news, che sarà associata alla categoria news. Non avessi messo le categorie prima, non avrei potuto associarle. Ok, pubblica. Fatto. Adesso dobbiamo metterla nel menu. Quindi, ancora una volta, aspetto menu e ci creiamo un menu contenitore generico, che chiamiamo comunicazioni. Andiamo ancora qua, clicchiamo sul più, e creiamo adesso il primo menu verticale, che chiamiamo comunicazioni. Creazione menu. Prima fase è assolutamente analoga alla gestione dei menu orizzontali. Cosa gli mettiamo dentro? News e circolari. Aggiungi il menu. Volevamo i circolari sopra, li tiriamo su. Già qua uno potrebbe vedere un trucchetto. Conviene fare, siccome lui mette in ordine l'ultima, la mette in alto l'ultima, allora se uno vuole che in alto e sopra ci sia circolari, crea prima la pagina news e poi la pagina circolari. Così fa un passaggio in meno. Se no, fa questo il lavoro che faccio io adesso, di spostamento dell'ordine. Salva il menu. È il nostro menu comunicazione, comprende circolari e news. Adesso, ultimo passaggio, il posizionamento. Dove lo mettiamo? Eh, qua noi abbiamo soltanto i tre menu orizzontali. E qui non c'è. Per creare i menu verticali, la prima parte è uguale, la seconda parte invece è diversa. Collocare menu verticali si fa attraverso aspetto widget. Qua vedete, avete le barre laterali. Uno e due. Poi avete sottomu uno, due e tre per gestire quelli che nel nostro sito di riferimento sono poi i cosiddetti feeder SS filtrati in automatico dalle pubblicazioni dei nostri siti di riferimento. Bene, qui vedete ci sono già degli elementi. Sono quelli che erano presi nella prima installazione di WordPress quella automatica. Li togliamo tutti. Se no, avremo dei doppioni o delle cose inutili. Quindi, cancella. Non ci preoccupiamo, eh, perché in realtà non ci servono nulla. Via tutto. Proprio niente. Alla sinistra noi mettiamo esclusivamente menu che creiamo noi. Togliamo categorie. Questa qui era un po' la gestione proprio tipica da blog, ma stiamo facendo un sito scolastico che è diverso. Bene, barra laterale 1, dobbiamo mettere i nostri menu. Come si chiamano i nostri menu? Sono i menu personalizzati che noi prendiamo e trasciniamo sotto barra laterale. Selezioniamo il menu. Lui trova tutti quelli che abbiamo creato. Tra l'altro che avevo chiamato mini, invece che il menu, un piccolo errore. Selezioniamo comunicazioni, gli diamo il titolo. Comunicazioni, che è l'etichetta che sta sopra. E basta. Salva. Andiamo a vedere. Se abbiamo fatto tutto per bene, poi possiamo fare chiudi, così andiamo a rimpicciolire lo spazio a disposizione. A livello di visualizzazione, sulla colonna di sinistra dovremmo trovare unicamente il menu comunicazioni. Andiamo a vedere se è vero. Eccolo qua. Vedete? Qui c'è quel giochetto di sfumatura che è stato preso. Lasciamo perdere per un attimo l'arbo di istituto e creiamo adesso il menu scuola. Facciamo dirigenza, storia della scuola e pressi. Il resto poi lo fate voi. Queste sono pagine normali. Da comunicazioni in giù non avremo più pagine con categorie, ma pagine che si creano senza legami e filtri particolari. Ricordiamoci, dirigenza, storia della scuola e pressi. Allora, andiamo qua e ci creiamo nuova pagina. Poniamo, qui facciamo dirigenza perché noi seguiamo in modo così assolutamente meccanico, automatico il modello consigliato. Poi uno, ovviamente, a seconda delle sue caratteristiche di scuola può cambiare. Già che ci siamo, ci copiamo anche il contenuto. Vi facciamo meno fatica. CTRL-C, andiamo qua, CTRL-B. Ok. Poi andate ad aggiornare, ovviamente. Qui ci sono dei consigli in corsivo. Dovete andarlo bene a sistemare per i fatti vostri. Fatto. Poi ci creiamo la pagina storia della scuola. Nuova pagina. Storia della scuola. Storia della scuola che aveva anche esso il suo contenuto, immagino. No, beh, qui sono dei consigli per cui non lo lasciamo bianco. Lo pubblichiamo e basta. Poi metterete voi. E poi andiamo a mettere Plessi. Nuova pagina. Plessi. Plessi ovviamente in siti comprensivi, in altri tipi di ordine di scuola magari non ci sono. Abbiamo i Plessi. Qua cosa avevano i Plessi? Avevano, vabbè, un testo di riferimento per andare a prendere spunti. Ma una cosa interessante è che i Plessi, poi vedete, avevano delle sottopagine. Facciamo Plesso A e Plesso B. Allora, creiamo anche le sottopagine di Plessi, che si chiamano Plesso A e Plesso B, così vediamo come si fa. Allora, nuova pagina. Ovviamente non si mette il Plesso A, si mette il nome preciso, non so, Plesso di quello che è. Ecco, come facciamo a creare una sottopagina? Gli diciamo che il genitore deve essere una pagina già fatta. Cioè questa è sottopagina, cioè figlia di Plessi. Se poi Plesso A dei figli, ebbè, a loro volta avrà come genitore Plesso A e non Plessi. Creiamo anche la sottopagina Plesso B, che ha come papà o mamma Plesso, in questo caso papà perché maschile, pubblica. Bene, andiamo adesso a crearci il nostro menu. Il menu si chiamava la scuola, abbiamo fatto soltanto i primi tre pezzettini. Nuovo menu, nuovo box, vedete, ogni boxettino verticale o meno a sé stante. La scuola, cosa contiene questo? Creiamolo. Fatto, gli mettiamo. Plessi, inutile andare a sistemare il resto, soltanto le pagine principali. Aggiungi il menu. Fatto. Solita solve dell'ordinamento. Poniamo che sia questo. Salviamolo. E andiamo a terza fase per il menu verticale, a sistemarlo nei widget. Vedete, fate due o tre poi un meccanismo ripetitivo. Quindi, questo vale anche se uno fa l'installazione completa di tutto il sito identico. E, beh, attenzione, qua andate a crearvi tutti i blocchi che volete. Però, dobbiamo andarlo a spostare. Mettiamolo sotto. Lo chiamiamo la scuola. E il menu è quello che si chiama la scuola. Salva. Benissimo. Andiamo a visualizzare e vediamo se c'è. Eccolo qua. Dirigenza. Vittoria della scuola. Plessi. Vedete che qua non ci sono le sottopagine. Come fare per creare le sottopagine? Dobbiamo andare in bacheca e attivare, scusate, già attivato il plugin Subpages Menu. Quindi dobbiamo averlo, averlo attivato. Vediamo se c'è. Eccolo qua. E andiamo adesso a posizionarlo come widget. Che va a occupare la barra laterale 2. Andiamo a vedere. Subpages Menu. Eccolo qua. Tra le altre cose, anche delle personalizzazioni qua, non vedo. Per il momento mettiamolo qua. Ecco, le create dopo. Scusate, è fatto nel secondo tempo. Lasciamo bianco, così com'è, senza mettere nulla. Lasciamo le spunte. Divertitevi voi a cambiare le spunte per vedere cosa succede. Salviamo, ma a me interessa vedere che compaia sotto Plessi. Vedete? Plesso A e preso B. Perfetto. C'è una piccola differenza rispetto al nostro, perché sono attivate tutto il percorso di navigazione. Ma quello lo vediamo poi in un passaggio successivo. Mi interessava vedere che stiamo costruendo pian pianino tutto il nostro sito, passo a passo, senza grandi problemi. L'ultima cosa. Vedete che io, se vado sulla pagina Plessiubi, o anche sulla pagina Contatti, in alto, il link è un link poco comprensibile. Si parlava in aula virtuale del problema della urlabilità, cioè del fatto che i link, cioè le pagine, gli indirizzi web delle nostre pagine, siano rappresentativi del contenuto. E se io metto punti domande a page id uguale a 12, non dico assolutamente nulla. È un brutto url. Capita spesso anche ai siti importanti di vedere scarsa attenzione a questo passaggio, ma è importante, invece, a livello comunicativo, curare anche questo aspetto. Come si fa a fare in modo di eliminare quel brutto punto di domanda con i numeri? Eh, si fa così. Si va in bacheca e si va, adesso non mi ricordo se impostazioni o strumenti, in impostazione e si segnala non l'impostazione predefinito del permalink, che è qua, vedete, no, c'è anche un minimo di spiegazione, ma gli si mette date e nome. In realtà, invece che fargli mettere anche anno, mese, giorno, che è tipico da blog, si cancella tutto e si lascia barra percentuale post name percentuale. Salva le modifiche. Andiamo a vedere cosa è cambiato e se è più bello. Andiamo in contatti. E vedete, slash contatti, senza punto di domanda. Molto, molto, molto meglio. Storia della scuola, storia della scuola. Vedete che in questo modo il nostro permalink è molto più funzionale. Peraltro uno poi può, questo è quello che viene dato in automatico da WordPress, no, che cosa fa? Prende il nome della pagina, apposta gli spazi, mette il trattino alto. Su uno vuole, vai in modifica. Se invece la storia della scuola vuole mettere la storia a scuola, poniamo, va qua e lo può modificare. Quindi c'è anche un modo per, togliamo lo spazio e che non ci devono mai essere nei titoli delle pagine. Prendete, aggiorna, e vedete che il link della pagina è diventato ancora più sintetico. Vediamo dove era la storia della scuola, qua. Qui si scrive storia della scuola, storia della scuola, ma il link storia, trattino alto, scuola. Bene.